Ciao, mi chiamo Maria Grazia Buono, ho 25 anni e sono di Napoli. Vivo a Napoli per l'appunto, sono alta 1,65 m e parlo tre lingue, al di là dell'italiano. L'inglese, lo spagnolo e un pochino di francese. Ho iniziato a studiare teatro all'età di 13 anni e ai 22 ho iniziato poi a studiare cinema, facendo workshop e masterclass all'Accademia Professione Artisti di Roma. Inoltre, nell'estate del 2023, sono partita per Los Angeles e ho preso parte all'Accademia di American Academy of Dramatic Arts, appunto, di Los Angeles. Come esperienza lavorativa ho molta esperienza a livello teatrale, chiaramente ho preso parte a molti spettacoli teatrali, sia classici che moderni. E per quanto riguarda invece la TV, ho preso parte a serie TV come i Bastardi di Pizzo Falcone o il commissario Ricciardi e ho anche ottenuto un ruolo in un film, ossia Annata per te di Fabio Mollo. La mia agenzia è la cantera management. Grazie mille.